Ciao Alessia, benvenuta. Ciao, ciao. Alessia è una digital strategist e oggi il suo talk è una specie di indagine di studio su, si fa presto a dire freelance, chi sono freelance oggi. Ti lascio il palco. Grazie mille. Ciao, super responsabilità aprire. Allora, vediamo se Miriam e Gianluca hanno detto delle cose intelligenti, no? Sicuramente sì, ma di cosa parliamo oggi? Posso? Ok, perfetto. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che abbiamo bisogno di farci un quadro della situazione. Io sono freelance da poco, da poco più di un anno e sono abituata che quando approccio qualcosa che non conosco, lavoro o vita, devo farmi un po' di analisi perché altrimenti non capisco dove sono e non capisco dove devo andare. E mi sono fatto un'analisi sul mondo dei freelance. La stavo tenendo per me, onestamente. Però poi ho pensato, ma che brutta persona. Forse è meglio se la condivido anche con gli altri e quindi ho fatto la proposta al freelance camp di farvi vedere un po' i dati che sono emersi. E vedremo anche se quello che hanno detto Miriam e Gianluca sul futuro è supportato dai dati. Quindi tremate. Allora, prima cosa che ho cercato di capire è ma perché ci chiamiamo freelance? Ma chi l'ha detto freelance? L'ha detto Walter Scott nel 1819 in Ivano. Io Ivano l'avevo anche letto, ma questa storia dei freelance non me la ricordo. Comunque era un modo per identificare i soldati mercenari medievali. Freelance, cioè lancia libera, che non fa parte di un esercito specifico. Veniamo un po' più alla modernità e quindi la definizione che ci diamo ora è quella di essere dei liberi professionisti che non sono dipendenti dalle società e dalle organizzazioni per cui lavorano. Perfetto, adesso sappiamo chi siamo. Ma quanti siamo? Cosa portiamo? Che facciamo? Allora, siamo in 1,2 miliardi in tutto il mondo. Siamo in un sacco, io pensavo meno. E siamo il 36% dei lavoratori complessivi. Quindi non è che siamo proprio una nicchia. E il 15,4% della popolazione mondiale. Insomma, questi freelance sono dappertutto molto interessanti. In Italia, ecco, ovviamente come sempre, in Italia siamo messi un pochino peggio. Siamo solo il 21%, quindi c'è spazio, possiamo crescere. Possiamo crescere se smette il Covid. Questi sono i dati dell'ISTAT, dell'andamento dei lavoratori dipendenti e indipendenti dal 2019 all'altro giorno, perché è veramente uscita una settimana fa l'aggiornamento. E vediamo che nel momento in cui c'è stato il picco del primo lockdown, eccetera, eccetera, sono crollati i lavoratori dipendenti, mentre gli indipendenti si sono mantenuti un po' più stabili, ma poi mentre i lavoratori dipendenti sono ricresciuti, anche perché è cambiato anche un po' il modo di definire lavoratori dipendenti, ma lasciamo perdere. Quello che ci interessa è vedere che invece il numero di partite IVA sono calate rispetto a prima, quindi il numero di persone che lavorano come i libri professionisti sono calate. Quindi il futuro, il futuro cosa ci riserva? Dopo lo vedremo. Diciamo che in Italia in questo momento non c'è una forte espansione dal punto di vista del freelance. Da dove lavoriamo? Lavoriamo principalmente da casa, solo nel 17% del tempo lavoriamo da qualche altra parte e qualche altra parte può essere tipo la sede del nostro committente, un co-working, un bar sotto un ponte, dipende. Comunque principalmente stiamo a casa nostra. Cosa facciamo? Allora, vedete dal grafico che nella maggior parte dei casi per freelance si intende una persona che comunque lavora nell'ambito web, digitale, eccetera. Vedete che la maggior parte delle persone fanno qualcosa che riguarda l'IT, la programmazione, la grafica, eccetera, eccetera. Tutto il resto c'è ancora molto poco. Io, quello che mi sono chiesta è, ci sono tutte quelle persone? Sono state censite tutte quelle persone che fanno nuovi lavori da libri professionisti, come quelli che lavorano per Uber, quelli che lavorano per Deliveroo. Questo non lo so, sarà interessante scoprirlo più avanti. Adesso forse è troppo presto per avere un dato a livello mondiale. Ah, una cosa che non vi ho detto. Ho messo le fonti in ogni slide perché magari qualcuno si può incuriosire e voler vedere qual è la fonte. Ovviamente adesso non le potete vedere. Se per caso vi servono e me lo chiedete, io vi mando la presentazione così potete andare a guardarci. Bando alle ciance. Parliamo di soldi, che so che bisogna sempre parlare nel freelance camp, altrimenti non si è degni di questo nome. Quindi parliamo di soldi. Ovviamente quanto guadagna un freelance in Italia non è dato a sapersi, perché figurati se in Italia qualcuno ti racconta quanti soldi prende. Però abbiamo un dato degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la media è di 67 mila euro lordi all'anno. Interessante vedere che coincide quasi con i 65 mila euro del regime forfettario. Sarà un caso, avranno guardato i dati, chi lo sa. E l'altro dato interessante è che la media è di 21 euro all'ora. Adesso probabilmente vi state facendo i conti in testa, io sono sopra, sotto, ok. Non è questo secondo me tanto l'importante. L'importante è sapere che nel 2018 la media di retribuzione oraria era 19 euro. Quindi è aumentata di 2 euro in pochissimo tempo. 2 euro su 19 non sono mica pochi. Questo secondo me significa che il lavoro da freelance sta venendo valutato e apprezzato sempre di più. E quindi viene quotato un po' di più e quindi il freelance non è più il lavoratore di fascia B che non è stato assunto da nessuna azienda e quindi il poverino lavora da solo perché non lo vuole nessuno. Ma è qualcosa che funziona, qualcosa di utile, qualcosa che sei disposto a pagare. Quindi lo trovo un buonissimo indizio. Un po' meno buonissimo indizio è il fatto che anche qui non siamo esenti dal gender gap e le donne mediamente hanno delle retribuzioni più basse, quindi un 84% rispetto agli uomini. Male ma non malissimo in quanto in generale le donne arrivano al 64% della retribuzione maschile. Quindi diciamo che le donne libere professioniste forse sono un po' più agguerrite e quindi riescono a colmare un pochino il gap che invece c'è per le lavoratrici dipendenti. Siamo felici? Ci piace fare questo mestiere? Sì, siamo felici. Se facciamo i liberi professionisti come lavoro supplementare abbiamo una media di valutazione della nostra soddisfazione di 3.8. Se invece lo facciamo a tempo pieno abbiamo una media di soddisfazione di 4.1 su 5. Quindi non male, siamo abbastanza felici. Se facessimo la stessa domanda ai lavoratori dipendenti i dati sarebbero molto molto più bassi e lo dicono sicuramente adesso le grandi dimissioni che stiamo vedendo un po' in tutto il mondo. Perciò consideriamoci felici e soddisfatti del nostro lavoro. Perché lo facciamo? Il 64% delle persone lo fa per scelta e lo fa full time, quindi lo prende come un lavoro vero, diciamo così. Mentre c'è un 20% che lo fa part time perché nel resto del tempo ha un lavoro fisso da dipendente. E poi ci sono anche un 12% che sì è freelance ma mi farebbe piacere fare anche qualcos'altro. Oppure vabbè c'è anche chi non ha risposto chiaramente ognuno fa quello che vuole. Questa è una slide che a me è interessato molto. È stato chiesto ai freelance quali sono le capacità che ritengono di avere di più. E le due che emergono maggiormente le ho evidenziate in Rosina, Bigiolino, non lo so, sono le ultime due. Sono quelle che i freelance sentono di più e quindi hanno votato più spesso. E sono lavoro bene con persone di ogni livello e ho saldi principi e una forte etica. Questo io l'ho sentito molto perché quando sono diventata freelance sono due aspetti che ho visto che ho dovuto elaborare maggiormente e migliorare maggiormente. Lavorare bene con persone di ogni livello perché ci siamo solo noi e quindi dobbiamo parlare con tutti, no? Mentre magari quando lavori in azienda ci sono i vari ruoli, il manager parla col manager, l'operativo parla con l'operativo, è molto più difficile lavorare bene, parlare sempre con persone di tutti i livelli. E l'altra questione è questo riconoscere la propria etica e i propri principi perché quando lavori da dipendente non è che puoi dire di no, non è che ti puoi scegliere i committenti e quindi tante volte devi andare anche un po' contro probabilmente a quello che sarebbe il tuo volere e quindi il fatto di fare il freelance probabilmente ti fa sentire di più quest'etica che hai perché la puoi seguire maggiormente quindi la senti più forte. Cosa ci riserva a futuro? Saremo come il prezzemolo, può essere. Vediamo un po' di dati. Allora, previsioni negli Stati Uniti, quindi qua rispondiamo alla affermazione di Miriam, negli Stati Uniti si prevede che nel 2027 ci saranno più della metà delle persone, dei lavoratori che saranno freelance. Secondo me è un dato pazzesco. quindi aspettiamoci una crescita se queste previsioni ovviamente sono sensate. Perché, e qua invece rispondiamo alle supposizioni di Gianluca, perché tre motivi principali sono questi. Il freelance intanto può essere pagato pay per use, quindi pagato a chiamata. non è che gli devo pagare tutto il tempo, anche se non sta facendo niente tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, eccetera. Quindi è più vantaggioso economicamente. È un lusso accessibile, nel senso che mi posso permettere di prendere anche persone molto brave, molto costose, perché le devo assumere per un tempo o per un progetto finito. E quindi mi posso appunto permettere dei talenti, anche se sono un'azienda magari con meno budget, che se dovessi assumere non mi potrei permettere. E la terza cosa, che va un po' incontro alla logica agile che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ci sono sempre di più progetti ad interim, progetti di prova, progetti di test che non so quando finiranno, se finiranno, se andranno a buon fine, è la startup, eccetera, eccetera. E quindi il fatto di poter utilizzare un freelance mi dà la possibilità di poter mandare avanti meglio questi progetti di test. Un'altra questione è che ovviamente il Covid ha ridotto tantissimo la distanza tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente. Quindi anche agli occhi del committente non c'è più questa grossissima differenza tra una persona che viene in ufficio tutti i giorni, perché tanto non ci va, e una persona che lavora in maniera indipendente. E perciò questo probabilmente agevolerà la disponibilità e la ricerca di freelance. In più c'è una questione di opportunità. Abbiamo detto che nel mondo siamo 1,2 miliardi. Un dato che non vi ho detto prima è che nell'ultimo anno nelle Filippine e in India in particolare, ma anche in tantissimi altri paesi, c'è stata una crescita pazzesca. Cioè nelle Filippine più 208 è una crescita incredibile delle revenue annuali per i freelance. Quindi significa che queste persone che probabilmente nel loro territorio non avevano così tanta disponibilità di lavorare, potendo estendersi in tutto il mondo, hanno avuto una crescita pazzesca. Quindi abbattendo le barriere geografiche c'è veramente la possibilità di andare dappertutto e di offrirsi, soprattutto se si lavora in una nicchia particolare che può essere interessante un po' in tutto il mondo, o comunque in una zona geografica più ampia che non sia a 30-50 km da dove vivo. Un esempio, questo è Google che a quanto pare nel 2019 aveva già un 54% di lavoratori freelance. Quindi se persino Google ha capito che funziona bene lavorare con i freelance, probabilmente pian pianino ci arriveranno anche gli altri. L'esperto consiglia, dunque, per preparare questo talk, mi sono letta tipo 50-70 articoli scritti da vari freelance che davano dei consigli di vita, fai questo, fai quello, io ti dico così, tu mi dici cosa hai, io ho vissuto questa cosa bruttissima, eccetera, eccetera. E alla fine l'ho riassunta in due considerazioni principali. La prima considerazione è che moltissimi liberi professionisti vivono ogni tanto questo senso di colpa da sono un fancazzista e quindi ci si dà tanti consigli per evitare di sentire questo senso di colpa. E i consigli sono principalmente quello di pianificare, ovviamente, e quello di focalizzarsi sul contributo che si dà più che sul task che si deve compiere, quindi darsi un valore che non sia quello dell'esecution semplice. L'altra questione di ansia è morirò di fame, quindi mangerò panna e cipolla quando ritroverò. E qui la soluzione che viene data è fatta di quattro step, quindi il primo è di diversificare i committenti, il secondo è di studiarsi le tasse e le leggi perché così magari non abbiamo sorprese e far firmare proposte e contratti chiaramente perché almeno sappiamo che abbiamo qualche pezzo di carta o digitale in mano e poi creare un fondo delle emergenze così se non lavoriamo per qualche giorno, qualche settimana non ci viene il panico perché abbiamo un fondo da cui attingere. E quindi le conclusioni, questa è la penultima slide, ho fatto una brevissima suat analisi per capire da qui cosa si evince. Allora, dal punto di vista dei punti di forza, sicuramente richiesta di freelancing crescita e lavoro che ci piace, quindi ottimo. Dal punto di vista delle debolezze, quindi weaknesses, precarietà chiaramente perché non è un lavoro dipendente con tutte le sicurezze e le certezze che dà e c'è un problema di scalabilità perché noi lavoriamo principalmente da soli, solo un freelance su quattro ha qualcuno alle sue dipendenze, quindi nella maggior parte dei casi lavoriamo da soli e quindi il nostro lavoro è poco scalabile. Perciò ci siamo solo noi e diamo valore solo noi. A livello di opportunità, c'è appunto l'opportunità di abbattere i limiti geografici che abbiamo detto prima e di diventare i migliori in una nicchia specifica. E come minacce, chiaramente abbattendo le barriere geografiche avremo più competitor e il rischio di offerte di lavoro a ribasso che quindi ci farà avere meno revenue ed è un rischio, insomma, proprio per la nostra professionalità. Vi lascio con una vignetta che arriva, quindi leggetevela. Ciao. Ciao, grazie Alessia. È tutto molto vero e di molte delle cose che tu hai citato nella tua presentazione parleremo nelle prossime, nei prossimi talk di questa mattina. Quindi, grazie di nuovo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.